siete rimasti mai con le scarpe sbarciate in mezzo a una corsa non è una cosa piacevole perché poi fermarsi quando si corre potrebbe darsi che si incorre in crampi perché comunque lo sforzo fisico elevato e piegarsi per alciarsi le scarpe non è una cosa che fa piacere quindi oggi volevo farti vedere come si fa a alciare le scarpe o meno come le rilascio io e come evitare che si possono slacciare io come vedete la scarpa mi raccomando è la scarpa un centimetro più corti lunga di quello che è il vostro piede io ho un 41 e deve essere questo è un 42 c'è un dito tra il mio dito e la scarpa per evitare che quando scivola il piede o si gonfia per la corsa mi si va a picchiare contro la scarpa l'unghia e posso incorrere in vesciche e altre problematiche i piedi quindi per lasciare la scarpa io vi consiglio di lasciarla qui nelle prime allacciature più larga stringere bene le altre allacciature e utilizzare l'ultimo l'ultimo anello l'ultima asola in pratica si fa uscire e si fa rientrare e si creano due asole una parte e una dall'altra una volta creata le due asole andiamo a invertire la lacciatura quindi un capo da una parte dentro l'asola dall'altra a stringere bene e poi fare il nodino questo è la lacciatura che vi consiglio per un buon una buona chiusura soprattutto che va a fasciare bene sul collo del piede per evitare che si slacciano le le scarpe cosa facciamo noi prendiamo due estremità che sono quelle che sballonzolano nella nella corsa e le andiamo a infilare all'interno della lacciatura ecco fatto ricordatevi iscrivetevi al canale e spolliciate come se non ci fosse un domani